Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, ci sono 3 km di coda per un incidente tra Incisa Reggello e Firenze Sud, in direzione di Firenze. Ci spostiamo in Fipili, dove troviamo 2 km di coda per lavori, tra Lavoria e Ponte d'Eraova e Sponsacco, ancora una volta verso il capoluogo. Per le statali sulla statale 716, raccordo di Pistoia, code per lavori tra Pistoia Ovest e Pistoia Sud, in direzione di Pistoia Sud. Ci troviamo al km 4. E ancora su raccordo Siena-Firenze, segnaliamo che è chiuso per lavori lo svincolo Colle Valdelsa Sud, in uscita verso Firenze. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, informiamo che le biglietterie di Montecatini Centro e di Sesto Fiorentino, quest'oggi, sono chiuse al pubblico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!